La presunta liaison tra il presidente francese François Hollande con l'attrice Julie Gaillet sarebbe cominciata già due anni fa, a sostenerlo nella nuova edizione in edicola il rotocalco francese che ha rivelato l'affaire e che ora pubblica alcune foto dei due amanti insieme durante l'estate scorsa. L'idilio sarebbe sbocciato nell'autunno del 2011, durante le primarie socialiste per l'elezione del candidato all'Eliseo. Il rotocalco francese che ha già ricevuto una denuncia da parte di Julie Gaillet per violazione della privacy precisa che la relazione sarebbe poi stata troncata, ma solo per qualche mese, poco dopo l'elezione di Hollande nel maggio del 2012.